Il 7 dicembre giovedì, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Giovanni Petrone. Conferenza stampa congiunta a Campobasso di Coldiretti, CIA e Confagricoltura per lanciare l'allarme sulla crisi che investe l'agricoltura molisana. Tra le criticità, i danni provocati dalla peronospora e la situazione in cui si trova il consorzio di bonifica del Basso Molise. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Vediamo. Coldiretti, CIA e Confagricoltura insieme per lanciare il grido d'allarme alla politica, alle istituzioni l'agricoltura molisana sta morendo. A rischio centinaia di posti di lavoro mentre rischiano di scomparire intere produzioni. Il colpo di grazia lo ha inferto la peronospora che ha letteralmente azzerato la campagna vitivinicola con danni pesantissimi. La politica può indicare la direzione. La situazione è complicata ma non da adesso. Insomma partiamo da diversi decenni che la situazione si è un po' ingarbugliata. Adesso ha maggior ragione anche con questo cambiamento climatico che è un dato di fatto assoluto, quindi non è che il clima sta cambiando, il clima è cambiato e quindi noi dobbiamo attivare tutte quelle azioni correttive lungo il percorso per fare in modo che le situazioni che si stanno verificando siano anticipate o almeno cercate di progettare dei meccanismi per fare in modo che questa situazione vada verso il miglioramento e non certo con la direzione attuale. Quest'anno la campagna vitivinicola è andata male anche a causa soprattutto della peronospora. Ecco quindi avete quantificato i danni? Totali. Ecco diciamo che se diciamo totali probabilmente forse qualcuno è riuscito a fare qualcosa ma assolutamente è una situazione che ha coinvolto in maniera cattiva, in maniera non c'è stato raccolto, quindi assolutamente la situazione è molto compromessa e quindi vanno affrontate con scienza e coscienza tutto quello che sta accadendo. E poi c'è la situazione in cui verso il consorzio di bonifica del Basso Molise. Abbiamo trovato unità di intenti, di concordi, due e tre le organizzioni professionali perché auspichiamo che torni in boni se il prima possibile e che riteniamo che è stato fatto un lavoro preparatorio. Come Ciano riteniamo pure che si possano disegnare altri ruoli per dargli un futuro, non solo quello di ente che si occupa della gestione delle risorse rigue. Il mondo agricolo è in ginocchio, un grido d'allarme che non parte da oggi però? No, è un grido d'allarme che parte da lontano, i temi sono molteplici, in questo momento abbiamo concentrato le nostre forze, unendole in questo caso per cercare di portare all'attenzione del mondo della politica e anche di tutte le comunità sugli argomenti che riguardano il consorzio di bonifica e soprattutto il problema della peronospora della vita che quest'anno ha sostanzialmente abbattuto un'intera annata per quello che riguarda il prodotto molisano. Pensiamo che la politica debba prendersi le proprie responsabilità e fare ciò che può fare, quindi mostrare vicinanza con dei provvedimenti ad hoc per tutto il mondo agricolo perché non è una questione di sigla ma una questione che riguarda effettivamente tutte le aziende agricole indistintamente. Premiazione Gente di Mare a Termoli presso l'auditorium comunale in via Elba. Tanti gli studenti meritevoli premiati e i cittadini termolissi che hanno dato lustro alla città anche fuori dai confini territoriali. Ce ne parla in questo servizio Dalila Catenaro. Vediamo. Grazie. 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 Un momento dedicato al riconoscimento dei meriti dei tanti termolesi che si sono distinti e che hanno dato lustro alla città anche fuori regione. Una manifestazione giunta alla 36esima edizione che ha visto 21 personalità premiate grazie al loro impegno nelle varie discipline e in diversi ambiti, dallo sport alla cultura ma anche dal punto di vista professionale. Presente il sindaco Vincenzo Ferrazzano insieme all'amministrazione comunale che ha ricordato nel discorso d'apertura l'importanza di questa giornata per la città in occasione anche della festività del patrono di Termoli. La cerimonia si è svolta in due momenti. Nella prima fase della manifestazione c'è stata la premiazione degli studenti meritevoli che hanno conseguito e concluso il loro percorso di studi con il massimo dei voti. Nella seconda parte della serata sono stati invece premiati i cittadini che hanno dato lustro alla città con il loro talento oppure che si sono distinti in ambito lavorativo. In apertura è stato premiato anche il vescovo della diocesi di Termoli Larino Gianfranco De Luca, guida spirituale e pastore. È nato dal professor Di Giandomenico come sindaco 35-36 anni fa ma è nato soprattutto per premiare in modo particolare i ragazzi delle scuole che meritano con il massimo dei voti, infatti c'è stata quella prima manifestazione con i ragazzi delle varie scuole che vengono premiati. Poi insieme si era partiti con dei personaggi che davano lustro al paese a Termoli. Man mano è andato un po' più allargandosi. La festa della nostra città e della nostra gente. In questa occasione presentiamo ai nostri cittadini questa nuova struttura che era attesa da tanto tempo e finalmente abbiamo una struttura da poter offrire a tutte le associazioni o le organizzazioni che intendono fare un convegno. Ci è sembrato il giorno più opportuno per fare questa inaugurazione. Abbiamo pensato di dare un riconoscimento a tutti quei ragazzi che si sono distinti per ringraziarli e perché loro sono da esempio per gli altri e anche per stare vicino alle famiglie perché le famiglie per avere i risultati dei figli c'è bisogno della collaborazione delle famiglie. 36esima edizione del premio Gente di Mare in occasione naturalmente della festività del Santo Patrono di San Basso il 5 dicembre. Quest'anno un'edizione particolare, un'edizione speciale se vogliamo perché è stata realizzata all'interno del nuovo auditorium comunale che proprio in questa occasione abbiamo deciso appunto di inaugurare. Una struttura polifunzionale dotata di tutti i servizi e di tutte le attrezzature soprattutto all'avanguardia in termini di audio e video ed è quindi una struttura che finalmente possiamo con piacere consegnare alla cittadinanza. di tanti cittadini che quest'anno abbiamo voluto individuare e premiare con il premio Gente di Mare una benemerenza che comunque ha un significato importantissimo per la collettività termolasing. Quanto è importante continuare a promuovere la cultura in un contesto che sembra sempre essere messa da parte? È importantissimo, è importantissimo farlo ma è avere anche i giusti spazi per poterla promuovere e questo dell'auditorium di Via Elba sicuramente è uno spazio che è consono appunto alla promozione degli eventi culturali. Purtroppo Termoli come è noto penso ai più scarseggia un po' in termini di strutture. Quella dell'auditorium ripeto diventa quindi una significativa opportunità appunto per continuare a lavorare e a promuovere cultura sul territorio cittadino. E con la nostra informazione ci fermiamo, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Partiamo dal web, dal giornale del Molise. L'allarme di Coldiretti, CIA e Confagricoltura. Per la situazione critica servono interventi urgenti. Si parla anche del PNRR, prima riunione della cabina di regia a Roma. Parla l'assessore Iorio, regione al lavoro per recepire le nuove disposizioni. Scuola, prima uscita ufficiale del nuovo direttore regionale Maria Chimisso. Ecco le priorità in agenda. Sul giornale Molise anche le prime parole del nuovo arcivesco di Campobasso darò tutto me stesso. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Qui c'è questo titolo di cronaca. Colpì automobilista con chiave inglese, identificato e denunciato la notizia riguardo a Campobasso. E poi ci sono altre notizie sul giornale del Molise. Restiamo sul web. Andiamo a vedere Molise Network. Dunque Santa Sede, il nuovo vescovo della diocesi di Campobasso e Boiano è Monsignor Biagio Colaianni. Prende il posto da gennaio di Monsignor Giancarlo Bregantini a riposo per raggiunti limiti di età. Colaianni, 62 anni, ha studiato presso il seminario Pontificio San Luigi di Napoli. Ed è stato ordinato sacerdote il 9 maggio 1984 a Matera. Questo dunque su Molise Network. Passiamo a futuro Molise. Diversi argomenti proposti. Andiamo a vedere questo in alto. Si parla di scuole pubbliche molisane in bilico. Nei prossimi anni si prevedono tagli consistenti agli istituti scolastici pubblici del Molise. In particolare dovrebbero saltare dalle stime effettuate alcuni istituti. Cioè tre. Le altre notizie. Dalla Borsa Internazionale del Turismo di Venezia. Segnali di rilancio per il Molise. Questi alcuni degli argomenti sul telematico futuro Molise. Andiamo adesso su primo piano. Che continua a occuparsi della questione di Pizzone. Secondo parla il sindaco. Non rinunciamo a Enel. Di Cristofano assicura che ogni decisione sarà presa con chi qui ci abita e non con chi porta spasso il cagnolino nel weekend. Ha detto abbiamo la necessità di sopravvivere. Dunque l'affondo. Non mi interessa cavalcare l'onda del consenso. Siamo stanchi di aspettare quello che sarà. Foto centrale. Viaggio Colaianni. È il nuovo arcivescovo di Campobasso. Il successore di Bregantini ha 66 anni e arriva da Matera. Terra simile al Molise. Più in basso la questione delle ferrovie. Castrataro. Il sindaco di Sernia. No ad un altro anno di pullman sostitutivi in città. Il sindaco intenzionato a non concedere la proroga ai permessi. La tratta ai Sernia-Venafro è ultimata. Si ripristinino arrivi e partenze dal capoluogo. A centro pagina una notizia che riguarda il Responsible Hospital. Primo nel sud è impiantare la valvola cardiaca Mitris Resiglia. Ufficio scolastico regionale, dimensionamento, studenti al centro e scuole sicure. Questa l'agenda del nuovo direttore Chimisso. A fondo pagina questa notizia di cronaca. Spaccò la testa ad un automobilista e scappò preso e denunciato. I richiami di spalla. Pozzo dolce. E qui la vicenda del senza tetto morto. Incendio doluso si indaga tra i senza tetto. Altre notizie. Questa arriva da Agnone, capitale della cultura, dossier in Senato. E il ministro San Giuliano torna per la docciata. Infine San Giacomo. Il ministero concede la medaglia al valore al comune per i fratelli Galasso, morti in guerra. Michele D'Alessandro firma la rubrica Il punto. Giulia, il silenzio, il rumore, il futuro. In alto i titoli di sport. Coppa Italia. L'Imole se colpisce al novantatresimo. Il Campobasso è fuori. Ammenda di mille euro per i fumogeni. Serie D. Vittoria preziosa per il vasto Girardi. Bel 3-2 rifilato all'Atletico Ascoli. Fine Coppa Italia regionale. Il Venafro fa sua la gara di andata della semifinale. Adesso i quotidiani nazionali. Ci sono diverse le aperture oggi. Vediamo quella del Corriere della Sera. Biden lancia l'allarme su Putin. Il leader americano. Se vince in Ucraina. Paesi nato a rischio. Milone intanto pieno sostegno a Kiev. Questo al vertice del G7. Appello al congresso per i nuovi fondi. Evitare una guerra con i russi. Lo Zaro intanto è andato in Medio Oriente. Le altre notizie. Di spalla no al salario minimo. Opposizione in rivolta. Urla e cartelli in aula. Intanto per quanto riguarda la politica interna. Incontro tra Meloni e Salvini. Questa è un'altra notizia che troveremo sulle prime dei quotidiani nazionali. Oggi la prima alla scala. Il caso. La tregua. Sala e segre nel parco. Insieme con la russa. Passiamo a vedere la prima di Repubblica. Migranti. L'Unione Europea gela l'Italia. Si parla chiaramente dell'accordo con l'Albania. Primo allarme sul protocollo con Tirana. I partner europei ammoniscono piante rossi. Con quell'intesa diritti al rischio. E' intanto scontro sui costi. Le opposizioni accusano. Soldi nel cestino. Tajani replica. Meno della truffa. Superbonus. Poi per quanto riguarda il PNRR. Spesa ferma al 14%. Toghe. Governo. Crosetto. Sentito. In procura. Dunque questa è quanto scrive la Repubblica. Anche qui leggiamo di spalla. Biden su Kiev. Se Putin vince attaccherà l'alleanza. Andiamo a vedere adesso l'apertura del quotidiano cattolico a venire. Eccolo qui. Meno Cina più Europa. Dunque. Si parla del doppio fronte nel governo Meloni con Pechino. La rinuncia all'intesa sulla via della seta. Trattativa finale a Bruxelles per la riforma del patto di stabilità. A Palazzo Chigi Salvini e la Presidente dell'Europarlamento Mezzola. Meloni leader pro Unione Europea. Contiamo su di lei, hanno detto nell'ultima bozza di accordo. Intanto recepite in molte istanze tedesche. Mattarella. Integrazione ancora più indispensabile. Il fatto quotidiano. Vedete questa foto. Qui. Biden e Putin. Guerra mondiale. Biden perde l'Ucraina e la testa. La minaccia. Scrive il quotidiano di Travaglio. o armi a Kiev o nostri soldati contro la Russia. E c'è questo avviso al congresso. Per sbloccare i fondi. Dunque. Se Putin vincerà, attaccherà la Nato. È stato detto. Tanto Meloni e compagni prorogano il decreto armi in gran segreto. Questo dunque oggi sul fatto quotidiano. Libero invece si occupa della prima alla scala di Milano. Caduti alla scala. Operetta Rossa scrive. C'è la russa. Cigielle e Ampi. L'Ampi è l'associazione dei partigiani. Disertano la prima. Sala rifiuta il posto tra i ministri. Starò in platea con la Segre. È un atto politico. Ma lei va sul palco. E poi lui si accoda. Sul Libero anche quella che viene definita la pagliacciata sul salario minimo alla Camera. Conte Sla in piromani. Giorgia invece spegne i fuochi. Da Libero. Al manifesto. Qui ancora le questioni della guerra in Ucraina. Fondo perduto. È il titolo che apre l'edizione di oggi. Washington frena i finanziamenti all'Ucraina. I repubblicani in campagna elettorale. Stoppano Biden. Zelensky perde di vista i miliardi per pagare soldati e famiglie. All'ultimo momento sceglie di non parlare al congresso americano e i suoi dicono rischiamo di perdere la guerra. Chiudiamo anche il manifesto. Andiamo sull'altra parte politica con il secolo d'Italia. L'Italia lascia la via della seta. Comunque restano ottimi rapporti con la Cina. Taglio basso. Pianti e dosi. Accordo con Tirana. Costi inferiori alle cifre uscite. Si parla anche di alcune sgomberi a Bologna. Guerriglia nei centri sociali. Il bilancio è di dieci agenti feriti. Proseguiamo con la stampa. Salario minimo. Il governo pagherà. Vedete un titolo virgolettato perché c'è un'intervista a Conte. Da qui parte la nuova opposizione. Anche gli elettori di destra contro l'esecutivo. Tanto oggi l'Ecofin sul patto di stabilità. Paesi ancora divisi. La Presidente incontra Salvini. Le tregua sull'Europa. Di spalla. L'Italia abbandona la via della seta. Così Meloni è ancora più vicino a Biden. La stampa oggi mette in risalto questi genitori. La forza dei genitori. L'esempio delle famiglie Cecchettin e Reggeni. Colpite da tragedie. Andiamo a vedere invece come apre il messaggero. Il nuovo reddito più controlli. Via libera al decreto per l'assegno di inclusione. Verifiche ogni 90 giorni e card a ogni familiare. Manovra in aula il 18 dicembre. Per i medici pensione senza tagli. Lavorando tre anni in più. Il messaggero si occupa di questa vicenda. Il giallo di Roberta sparita a Malaga. L'hanno uccisa. Da 12 giorni la famiglia non ha notizie. E non è un allontanamento volontario. È stato detto. Dal messaggero. Passiamo al sole. 24 ore. In alto. Il focus sull'Ilva di Taranto. Invece più in basso. Nuovo PNRR. Saltano 4,6 miliardi di aiuti a fondo. Perduto nel 2024. Lo sport sulla gazzetta. Juve resto qui. A dirlo è Rabiot. Dunque che dice sì al rinnovo. Il francese ha deciso. Un'altra stagione ha le stesse cifre. E Allegri non ha dubbi. Adrian sarà uomo scudetto. Di spalla. L'Inter trasforma frattesi. Inzaghi lo inventa esterno a destra. Largo al multiruolo. In alto. Si parla di Spalletti. Re Spalletti sulla nave insieme ai nostri campioni dell'anno. Mentre a fondo pagina la Coppa Italia. Fiorentina rimonta a Brivido. E va nei quarti dopo i rigori con il Parma. Dunque queste alcune delle notizie di oggi. Sulla stampa regionale e su quella nazionale. Con la gazzetta dello sport termina il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Averci. Grazie. 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 Grazie per la visione!